Il caldo riduce la produzione di miele made in Italy, un calo del 50% rispetto alla media degli ultimi anni, lo afferma Coldiretti in base a un primo monitoraggio su 1.200.000 alveari che nelle campagne italiane impegnano circa 45.000 apicoltori. In Abruzzo il calo è stimato tra il 40 e il 50%, con punte del 60% per tutte le tipologie di miele, in particolare quello di acacia e il millefiori di montagna, a causa delle piogge e del freddo primaverile che hanno compromesso le fioriture. Dopo la primavera fredda e piovosa, evidenzia Coldiretti, il caldo record estivo alternato a tempeste d'acqua aggrava il pesante deficit 2017, uno dei peggiori nella storia dell'apicoltura moderna. Per non acquistare prodotti stranieri spacciati per nazionali, Coldiretti consiglia di verificare l'origine. La parola Italia deve essere sulle confezioni di miele raccolto interamente sul territorio nazionale. Se proviene da più paesi dell'Unione Europea, l'etichetta riporta l'indicazione miscela di mieli originari dell'Unione Europea. Se il miele proviene da paesi extracomunitari, deve esserci la scritta miscela di mieli non originari dell'AUE. Se si tratta di un mix, va scritto miscela di mieli originari e non originari dell'AUE. Una ridotta produzione, spiega Coldiretti, apre la strada alle importazioni da altri paesi che già nel primo quadrimestre 2018 hanno fatto segnare un boom del 32% per oltre 9,4 milioni di chili, in particolare da Ungheria più 64%, Romania più 46%, Polonia più 34% e Cina più 19%. Coldiretti consiglia anche di rivolgersi direttamente ai produttori delle aziende agricoli, negli agriturismi o nei mercati di campagna amica, come quelli coperti a Chieti, Pescara e L'Aquila. In Abruzzo, dove la produzione di miele è attiva tradizionale, è possibile trovare tantissime varietà di miele locale a seconda del tipo di pascolo delle api, dal miele di acacia al millefiori, tra i più diffusi, da quello più tardivo salto reggia.